Raffaele Toloi, stanco ma soddisfatto. Che partita ha giocato l'Atalanta contro la Lazio? Bella partita, grande intensità. Bisogna giocare così se vuole fare bene, se vuole vincere le partite, perché non ci sono partite facili. Oggi non era facile per niente, perché loro hanno qualità, giocavano nella casa loro, però siamo arrivati qui con fiducia. Abbiamo fatto una grande partita, giocato con intensità, giocato con qualità, abbiamo difeso bene, abbiamo meritato la vittoria e poteva essere anche un risultato con altri gol, perché abbiamo avuto tante situazioni. Siamo felici per la vittoria, era importante, però dobbiamo velocemente girare pagina, perché il campionato è a lungo e domenica già c'è un'altra battaglia, dove giochiamo in casa con i nostri tifosi e dobbiamo essere pronti. Raffaele, cosa ti è piaciuto di più di questa partita? L'intensità, lo spirito di squadra, questo non puoi mancare. Al di là di un errore o altro individuale, siamo una squadra, giochiamo insieme con una testa sola, dobbiamo essere così per diventare più forti. Abbiamo dimostrato che possiamo essere così questa sera, abbiamo corso tutti, abbiamo aiutato tutti l'uno all'altro. È un grande vittoria, da fiducia, però dobbiamo, come ho detto, piedi per terra, lavorare e pensare alla prossima. Allora non ti dico neppure che avete conquistato il terzo posto, lo avete agganciato, perché tu hai già risposto piedi per terra, lavorare, però bella soddisfazione. Sì, bella soddisfazione, perché era una partita difficile, perché in classifica stiamo bene, però il campionato è lungo, bisogna lavorare, non c'è niente da fare, correre, allenare, giocare bene, giocare di squadra con l'espirito giusto, perché il campionato è lungo e ci sono tante partite. È la saggezza del capitano questo? Ma è la realtà, questo è stato sempre la nostra forza, il lavoro, l'impegno, l'espirito di squadra e abbiamo dimostrato questa sera di averlo.